Ciao, oggi faremo un video bellissimo. Allora, hanno avuto questa bellissima idea di provare il doppio dietro da fermo dal cavallo. Quindi abbiamo liberato la buca perché loro volevano farlo col tappeto, ma io non l'ho voluto. Vediamo chi riuscirà a farlo. Io penso tutte, però stiamo a vedere. Non abbiamo fatto prove la prima volta che lo fanno. Ci sei? Ok. Ok. Doppio dietro dal cavallo. Da fermo. Vero? Muovi bene la gomma a piume in modo che sotto sia morbido. Se no possiamo mettere anche un rosa morbido. Vuoi mettere un rosa morbido, Emma? Devi fare un po' più rapida, Emma Gris. Spingo e sulle ginocchia, eh. La fatti ne fa tre. No, eh, fatti doppio. Ok. Cosa c'è, Bea? Come vuoi tu? Se vuoi, sì. Sì, ma non puoi. Dai! Vediamo la Bea. Bravissima, Bea! Vai, Giadi! Dai! No, vai, Giadi. No, vai, Giadi. Aspetta un attimo, Giadi, aspetta un attimo. Leti, butta un po' di cubi in mezzo. Ho avuto un iscritto strano. Cioè? Cioè? Sì, che invece ho pensato. Ok. Brava, Leti, grazie. Vai, Giadi. Giadi, mi raccomando, spingo tanto, non buttarti dietro. Spingo e superoci le ginocchia, eh. Uh, brava, Giadi! Com'è? Com'è? E' proprio perché mi stavo scappando le gambe. Eh, però è divertente, dai, eh. Emma? Emma? Cosa vuoi fare? Avanti? Buttati in alto, però. Spingi molto in alto, Emma. Questa è chiusa, eh. Sì. Bravissima! Anche tu? ginocchia aperte, per favore. In alto? In alto. Brava! Va bene, vi siete divertite abbastanza? Qualcun altro vuole fare qualche esperimento? Sì. Sì, sì. Sì, sì. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi like e ricordatevi di attivare la campanella, così non vi perdete nessun nuovo video. Ciao! 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 Grazie.